Raga, facciamo una cosa, se questo video raggiunge abbastanza like, nel prossimo video facciamo giocare Flame Wow, mannigga Bentornati sul canale, sono Naxi, siamo che si va nuovamente su ProStars Perché ragazzi, abbiamo rosa disponibile, quindi la prenderemo e la proveremo assieme L'ho già avuta contro e con la sua abilità dello scudo è letteralmente immortale Signore e signori, abbiamo rosa, tra l'altro un baule raro, io pensavo fosse di realtà maggiore Tanto che appunto è veramente forte, però raga, è rara, va bene Tra l'altro nel negozio abbiamo anche uno svuogosissimo baule che è tutto che mi troverà dentro Lui stesso, i potenziamenti per rosa, i potenziamenti per... No Anche quest'oggi abbiamo 20 baule che apriremo sempre con la tecnica balsana del salto della guaglia Ovvero che facciamo 10 adesso, poi facciamo due partitozze, ci apriamo gli altri 10 E poi magari se riusciamo a finire gli gettoni ci apriamo quelle norme E tra l'altro mancandomi solamente Eugenio e i leggendari, ragazzi, troviamo qualcosa, sicuramente qualcosa di buono Ragazzi, ma cominciamo con monete, con fenni e con lo zingaro E poi il biglietto, lasciamo mettere Signori, l'importante è non trovare ambrogio Perché tra l'altro, oltre a farmi schifo, che lo trovo sempre Raga, io che gioco solo sopravvivenza quando lo uso in campo Veramente, è come se mi schiacciassero le balle sotto un cingolo Cioè, è una cosa che è verosimilmente orribile Pam, pam va bene, ragazzi Altra l'altro anche pam è poveretta Nice Ce l'ho, 250, solamente che è a livello 2 Quando vado contro la gente, ragazzi, prendo delle steccate Datemi di gemme che voglio pareggiare il conto di... Di... aiuto, come si chiama? Eh, tiburosa Che è stato costante, 19 gemme e... Magari ciò mandare in pari col... No, non è possibile, stanno mai Dovrò riparare tipo 85, non ci arriverò mai Signori, comunque, stavo dicendo Anche pam, poverete, a livello basso, prendo delle botte in... Botte, raga Vengo sempre legnato male, raga Pestato a sangue Signori Proviamola E lo credo bene Sopravvivenza, la disegno ombre, se siamo assieme a... Assieme a... Ho fatto la singola, signori Ho fatto... devo fare la duo Ho fatto la singola Sono veramente una persona felice Potete affogarmi in un gabinetto Volevo... volevo un compagno ambro... Volevo insultare un compagno ambrogio Perché... perché la mia vita deve sempre essere così Deve essere, filosoficamente, come un piatto di minestrone Nessuno la vuole Adesso Allora, raga Hanno sbloccato Rosas Come vedete che almeno 4-5 le vedo Su di... Due le ben già viste C'è un Boris Un... tre Ok, vabbè, siamo tre E però questa... mi trovo il mio Boris Tre le abbiamo Un altro Boris Quattro, ok Oh No, buono Boris Boris, stai buono Venuto No, raga Boris è un... Signor penuto Un cellaccio schifoso Ok, allontaniamoci un attimo Comunque siamo in 4 Più io ci... Boris Bravo Pichia, vincio Quel melini Oh, bravo Ti sta bene, signor Boris La persona stai ferma Con quelle frecce schifose Ti vai poi a cacciare i guagli Signori Qui ce n'è una Qua c'è Oleica Che ha già 7 posizionamenti Con 8.050 di vita Quindi non è troppo saggio Andagli attaccato Questa È più bordabile Perfetto Lei che la va a sberlare Benissimo Tra l'altro sono stato sfortunatissimo Non l'ho trovato assolutamente Potenzialmente Neanche nessuno che mi feitasse Sono questi che stanno a orgiare No, ma va bene Tanto non prendo le botte Però Diciamo che mi piacerebbe Porta e ci pare Ok Proviamo la super Dai, 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 dai Nice Oh, però Oh, raga Forte e forte Perché Anche lo scudo Mi ha arrivato veramente tanto Dai, Zulu Zulu Zulu, Zulu Dai, Zulu Picchialo, picchialo, picchialo Eh, raga Oleika Secondo me comincia la partita Perché Praticamente è più forte In mezzo Ok La metterra è quasi colpita Un Zulu Vai, Un Zulu Vabbè Io No Grande Un Zulu Ah, il Zulu Un Zulu Un Zulu Ragazzi Se ci ha permesso Di uccidere Un Eik 8 coppie Per un Zulu Non c'ho capito Raga Ma abbiamo vinto Va bene così Prendiamoci il reward Ovvero Noste bellissime coppie Noste fighissime 20 monete Poi sono gettoni Una bolla Non c'è per noi Ragazzi Quindi c'è per noi Invece Quei 10 bauli 11 Che magari potete Trovarò subito Leona Ragazzi Sicuramente sì Sicuramente qui dentro No C'ho Penny Alfredo No C'hai Leon Sì C'hai Penny Alfredo Qua ho scivola E Jesse Va bene Penny Shelly Va bene Ok Raga Andiamo subito A tromba Che Voglio fare anche le altre modalità Con la nostra rosa Dai ancora 7 booni 7 Ok lag Questo è il lag della sorte Questo Ho trovato Ho trovato Boris Ne ho 500 Dico Per favore Per favore Terra va bene Che è lo pokemon Tra la nuvi mortis Non la mette in cinta Rosa Nice raga Tra poco la livelliamo Nice Questo mi piace Signori Rosa 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 No Ho trovato Boris E la mette in cinta Ma per finta Qua un mulo Identica dentro E noi Troviamo Lo zingareo E la scebola Non mi sono fortunato Raffaggiamo Signore Signore Siamo assieme Ragazzi Siamo assieme a Piper E a Boris Tra l'altro Boris Lo sto trovando In tutti i match In tutti i match Ragazzi Almeno un Boris Cioè Ok abbiamo Ok 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 Va bene Forse non è il map Migliore da fare con rosa Questa Perché Dovrei avere Delle zone più coperte Brava Piper Cattiva Molesta Molesta Però Per favore Non mi La sfidata Cioè Io posso tankare Ho bisogno di sparare Sparare No 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 Sempre che non vanno in tre Contro di me Non va bene Ok I miei sono bravi Ragazzi I miei sono bravi Io purtroppo Devo per forza Pushare Perché non posso Staccare a distanza E non c'ho nessunissima Zona di copertura Ma Piper è micidiale Piper è fortissimo Il signor Carlo Lei è molesto Però È veramente molesto Ok No Mi sento un po' inutile In questo match Vi giuro che Vi giuro che Nice Madonna Piper Lei è fortissima Piper è fortissima E arriva anche Boris Attenzione Allora Io vi attanco Però voi dovete Darmi supporto Perché poi adesso C'ho poca vita Ok Dico C'ho poca vita E poi rimango lì Sono un genio Sono un genio Ok bravo No ragazzi Sono dei fenomeni Ragazzi I miei compai Sono fortissimi Sono fortissimi Il 3 team Ho trovato il team No 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 Basta Ragazzi Io sono sempre Io c'ho la sfiga Eterna Di trovare sempre Di prendere sempre Le trappole Di Boris Però questo è mio E mi è il mio Il mio Il mio Il mio Il mio Il mio Stato convinto Ragazzi Ho avuto Due compagni Fenomenali Masu e Tito Pro Ragazzi Veramente Mi tolgo un cappello Chapeau estremo Modalità rampina Signori I nostri compagni Saranno Attenzione Siamo ora Ragazzi Mamma mia Siamo un altro Boris E denti cadenti Ragazzi Denti cadenti Un altro Boris Vuol dire solo una cosa Ragazzi Le bombe Bombe su bombe Non c'è uno Spike Che odio All'inverosimile Perché anche Spike È veramente una Roba molestissima Però per favore Andate all'inferno Voi all'inferno Stavo scherzando E la mia era una birra Non volevo Non dicevo seriamente Ragazzi Però anche il Boris Bravo bravo Perché ce li tiene distanti Per favore Ce li tiene distanti Non ci fa colpire La cassaforte Ma non gli dobbiamo busciare Devo assolutamente Busciare Dai No raga Ma è estremamente forte Rosa raga È estremamente forte Dai 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 Guardalo Guardalo Sareggio Guarda No vabbè raga No vabbè 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 Raga Tanca di brutto Raga è brutale Tanca di brutto È paurosa Raga Quando mette Sei in un gruppo Continua a mettere Spamma lo scudo All'infinito Raga è mortale Pazzesca Rosa è pazzesca Sì lo scudo Dai 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 Guarda Raga Non muore 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 Ho fatto un po' La bastardata Ho fatto un po' La bastardata Ma guardate Raga Mamma mia Venticadenti Venticadenti Arriva con il colpo di Saddam Hussein Con la bomba Si no era Billaden Perché Saddam Hussein Andava con l'aeroplano O era il contrario No No era sempre Billaden Era sempre Usama Con l'aerio Scusate due riprendini di carta lì voglio dipendere lo tolmiamo nice così mamma mia ok basta basta stupido spike schifoso cactus fatti bravi fatti bravini fatti bravini attenzione che non c'ho lo scudo no no lo scudo no 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 fatelo fuori fatelo fuori fatelo fuori vabbè che se ci allascia guarda casa si distrugge lo scherigno signora rosa mamma mia dentica denti che mi dà la mano dentica denti che mi helpa in maniera no ragazzi champagne champagne oltre in tv un'altra volta signore è così che mi piace è così che mi piace facciamo fare il gag se stiamo verso la cassaforte cassaforte per noi signori mamma mia guarda quanto riduce il danno signori pazzesco mi piace così mi piace prende una volta penso la cassaforte di averla hittata la maggior parte delle volte io perché proprio ci vado addosso come se fosse un montone in un momento non so di dare la gravidanza cose strane le cose strane succedono devo riuscire a non morire devo riuscire a non morire ok cosa fa adesso ero già pronto ad andare di nuovo contro la cassaforte che non mulo ma signori migliori in campo raga è pazzesca raga rosa ecco in questa modalità già mi è piaciuta di più signori fenomenale a parte anche i miei compagni raga devo dire veramente veramente bravi cioè raga champagne ancora signore belli gettone stella sei con per noi dieci figliissimi gettone non monete che sei con per un fuoco anche la cassa enorme che finalmente mi troverà Leon oppure Eugenio ci sono che devo trovare solamente quelli vabbè anche gli altri leggendari senza storie attenzione lag della vittoria questo è il lag dei leggendari è il lag dei barletta io ho aspettato tutto il match di prendere questo maule e alla fine l'ultima cosa che ho trovato è la più importante che aspettavo ambrogio